Sì, sì, buonasera Paolo! E allora, come va? Buonasera, eh, agisca qui. Buonasera Paolo e buonasera a casa, buonasera a tutto il web, perché questa sera qui siamo in diretta mondiale tramite il sito www.palodelcolle.net Ci sono anch'io, buonasera! Come va Palo Del Colle? Non vi sento? Scusate, io vado sulla passerella perché non sento... Beh, le monitor sono troppo alte, come va? Ah, bene! Siamo pronti per iniziare, che dite? Un saluto a www.palodelcolle.net che ci permetterà questa sera di essere in diretta, capite bene signori, in diretta mondiale tramite il sito www.palodelcolle.net Vuole un applauso, Simo! Un applauso, forza! Allora, un'iniziativa dell'assessorato allo sport, cultura, turismo e spettacolo con il patrocino ovviamente del comune di Palo Del Colle e la collaborazione delle associazioni sportive, culturali della nostra cittadina e ancora un applauso ovviamente anche un applauso per l'amministrazione comunale della prima persona e il primo cittadino ovviamente il sindaco, dottor Luigi Piola, grazie ancora l'assessore allo sport, Angelo Mittaridonna e ovviamente si ringrazia anche per la gentile collaborazione la polizia municipale e dei carabinieri per il servizio d'ordine grazie ancora La direzione artistica ovviamente è affidata ad Antonio Santamaria e a questo obbligo signori, Fia dello Sport si apre ufficialmente con i ballerini breakdance della Dynamic Fitness Club un applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti